Come arrivi intanto a questo Tour of the Alps? Com'è la forma? Potremmo arrivare in modo migliore e diciamo che niente arrivo da un post bronchite e sono qui alla ricerca appunto di continuità e riuscire a fare un buon Tour of Alps come allenamento diciamo in supporto alla squadra Quindi non ci aspettiamo di vederti là davanti ma magari qualche fuga uno degli ultimi giorni? Eh sì infatti Adesso vedremo un po' cosa anche faranno gli uomini di classifica della squadra e insomma io cercherò di supportarli al 100% ovviamente Il piano quindi è di stare intorno a Lennard e Kian questa settimana? Sì saremo tutti intorno a loro Grazie mocca al lupo Prego grazie Ciao